Siamo qui oggi, 14 maggio, per dire un no deciso e fermo al pericolo che venga approvato il DTL concorrenza da questo governo Draghi. Un secreto legge che andrebbe a privatizzare di fatto i servizi pubblici, trasporti, rifiuti e naturalmente il servizio idrico, l'acqua. In spregio aperto al referendum del 2011 che ha visto milioni di italiani dire no alla privatizzazione dell'acqua. Acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica, acqua pubblica. Oggi, 14 maggio, è la giornata di mobilitazione nazionale contro il DTL concorrenza, così chiamato, che il governo Draghi si appresta ad approvare. Noi siamo qui per la cittadinanza e per la stampa, veduto a richiedere lo stralcio. Questo disegno di legge dà la possibilità, entro sei mesi, al governo di varare un testo unico sulla concorrenza e sugli elementi a difesa del mercato. E contiene appunto questo articolo 6 che di fatto espropria la possibilità da parte degli enti locali di gestire in proprio, in quella che viene definita in autoproduzione, di gestire dei servizi che sono servizi comuni, servizi sociali, e che a nostro parere non possono assolutamente essere lasciati in mano a un mercato che ha grande interesse ad appropriarsi della gestione di questi servizi.